buonasera voi che siete venuti stasera qui a seguire la presentazione degli angeli della guarigione di Gaetano Vivo un libro pubblicato da Gagliano e che ho avuto modo di discorrere di vedere è un libro che si legge molto bene molto scorrevole e fluido e ci fa anche capire bene in maniera anche sintetica e lo stesso tempo analitica quanto l'autore sia legato alla connessione angelica quindi c'è una ricerca da parte sua e anche una pratica continua che fa giornalmente quotidianamente con il contatto con altre dimensioni chiamiamole così no? Siamo chiamate angeli o in altri termini si tratta di altre dimensioni e di colori che in qualche maniera ci danno un messaggio per poter affrontare anche la vita che facciamo su questa terra quindi li chiamiamo angeli perché questo è il nostro modo di chiamarli e sappiamo tutti che sono delle entità che ci servono da tramite chi crede a questa tipologia da tramite alla dalla dimensione terriera nostra a quella a quella celeste quindi dalla nostra dimensione in cui ci troviamo quella che poi viene considerata una sorta di al di là una sorta di dimensione parallela o di più dimensioni parallele quindi Gaetano stasera ci parlerà di questo libro che è uscito da poco insomma di recente pubblicazione e poi anche farà una meditazione esperienziale una parte pratica per tutti per vedere come funzionano anche determinate canalizzazioni che lui fa giornalmente perché creiamo queste canalizzazioni ha avuto anche modo di scrivere 13 libri alcuni li trovate anche la perché oltretutto è anche un Master Reiki e abbiamo Panta Reiki un altro libro di là e altre cose e altre pubblicazioni disponibili oltre a questo che appunto presentiamo stasera grazie di essere venuto grazie 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 di Firenze quindi venire a affrontare un viaggio per fare una serata qui da noi è un piacere e anche una cosa importante insomma grazie grazie buonasera buonasera a tutti io sono Gaetano Vivo e sono Master Reiki da 35 anni insegno Reiki in tutte le parti del mondo come diceva Mauro prima e da quando avevo cinque anni una luce entrava nella mia stanza di bambino ovviamente e mi portava a vedere mondi surreali questa luce che io non sapevo chi fosse che cosa fosse era una luce molto forte blu e questa luce mi prendeva e mi portava proprio mi ricordo che c'era un grande muro di pietra e al di là di questo muro c'erano dei mondi surreali quelli che noi chiamiamo appunto l'ultra e l'aldilà e negli anni ho capito che questa meravigliosa energia era l'arcangelo Michele che è la mia guida spirituale questa sera le persone che sono assolutamente intuitive e qui in sala ce ne sono diverse vedranno una luce blu intorno a me e questa luce blu è proprio la presenza costante dell'arcangelo Michele vicino a me che parla spesso al mio posto io sono laureato in lingue all'orientale di Napoli nel come diciamo l'anno e volevo fare il traduttore tant'è vero che a 24 anni dopo la mia laurea mi sono mi sono trasferito proprio in Inghilterra dove vivo tuttora e ho cominciato a fare il traduttore ma era una delle cose che più ho odiato nella mia vita perché mi avevano messo a tradurre manuali di computer dall'italiano all'inglese una cosa un deserto una cosa veramente un deserto però negli anni l'arcangelo Michele mi ha sempre parlato e mi disse tu era giusta questa cosa del traduttore perché tu tradurrai i miei messaggi al pubblico internazionale io ho la fortuna ovviamente di parlare inglese quindi ho la possibilità di andare in tutte le parti del mondo dove vengo chiamato regolarmente recentemente ho cominciato una esperienza negli Emirati Arabi perché il mio libro Pantarechi è stato tradotto in arabo e quindi vado spesso a Dubai e lo dicevo prima alla signora che è inglese io amo parlare l'inglese parlo inglese la mia energia si sente ancora di più quando parlo inglese però ovviamente sono italiano e quando la prima volta che sono andato a Dubai gli amici europei mi dissero non parlare mai di angeli negli Emirati questi ti mettono in carcere non ti fanno mai più uscire allora io un po' in punta di piedi mi sono recato a Dubai e sono andato lavoro in alcuni centri e poi degli amici che ho lì organizzarono un salotto privato in casa di qualcuno di uno sceico e io sono andato e questa signora che mi aveva organizzato questa cosa diceva ma noi abbiamo visitato lo sceico ha visitato il suo sito abbiamo visto che in Europa tu parli di angeli perché quando ne parli? lui è molto interessato e dico io ho saputo che non si può fare ma no ma assolutamente ti sbagli vabbè e quindi ho cominciato a parlare di angeli adesso questo libro uscirà anche in arabo tanto è vero e quindi io lavoro con gli arabi e parlo costantemente dalla mattina alla sera di angeli facciamo i corsi sugli angeli facciamo le sedute one to one con le terapie angeliche e io ho sempre visto dietro le persone due angeli custodi sapete che la religione cattolica ci dice che abbiamo un angelo custode vado a Dubai dico questa cosa e questi mi dicono ma nel corano noi abbiamo due angeli custodi c'è Michele e Gabriele non capisco perché tu vieni da un paese cattolico dove ti dicono che l'angelo custode è uno come sapete quando eravamo piccini ci facevano fare la preghiera dell'angelo custode però io ho sempre visto queste due meravigliosi luci dietro le persone che vedo anche con voi questa sera e quindi sono due ma adesso in Italia ci sono dei sacerdoti che sono sicuramente aperti nel mio gruppo non so se voi seguite il mio gruppo Ponti di Luce che ha circa 40.000 iscritti c'è un sacerdote che mi fa delle dirette con noi e lui mi dice sempre che abbiamo due angeli custodi quindi nel mio libro se lo leggerete troverete questa mia idea di avere due angeli custodi io lavoro con l'arcangelo Michele, l'arcangelo Michele è sempre con me, parla attraverso di me spesso e negli anni ovviamente lui mi ha istruito su alcune tecniche e alcune discipline con cui oggi io lavoro lui mi ha insegnato a vedere l'energia intorno alle persone che si chiama Aura mi ha insegnato a vedere quali sono i chakra che sono funzionanti e quali non questa sera io vi faccio un piccolo escursus dei chakra, degli arcangeli che sono gli arcangeli guardiani di questi chakra e se ci sarà la possibilità farò un paio di letture angeliche di Aura piuttosto per le persone che evidentemente hanno bisogno di sentire un messaggio più delle altre quindi come sapete tutti abbiamo sette chakra, i chakra sono sette punti energetici che abbiamo nel corpo ogni chakra ha un colore diverso e ogni chakra ruota in una direzione piuttosto che un altro a secondo dove si trovano e a secondo se siamo uomini o donne i chakra sono dei fiori in sanscrito e sono delle ruote principalmente in sanscrito chakra significa ruota, quindi girano, ruotano in senso orario, anti-orario a secondo di dove si trovano e a secondo se siamo appunto uomini o donne quindi il primo chakra, che è il chakra della radice, che ha a che fare appunto con il radicamento ruota in senso di colore russo e ruota in senso anti-orario nelle donne e orario negli uomini e l'arcangelo predisposto all'aiuto del radicamento è l'arcangelo Sandalfon l'arcangelo Sandalfon è un arcangelo che è l'unico arcangelo insieme a Metatron che è il guardiano del terzo occhio che è una volta vissuto sulla terra l'arcangelo Sandalfon era prima il profeta Elia poi è stato così osannato da Dio per i miracoli che lui faceva che l'ha fatto diventare un arcangelo gli angeli non hanno una frequenza terrena prima Mauro nell'introduzione ha un po' detto delle cose quindi quando parliamo degli angeli e degli arcangeli non parliamo di al di là ma parliamo di un'alta dimensione una dimensione molto più alta dell'al di là quando io insegno i miei corsi angelici faccio proprio sentire la distinzione tra l'oltre cosiddetto al di là e appunto la dimensione degli angeli quindi noi sulla terra viviamo in una dimensione molto densa quando andiamo nell'oltre la dimensione del corpo fisico non può esistere e quindi andiamo nell'oltre ma quando andiamo nell'oltre non perché siamo morti siamo diventati subito illuminati questo assolutamente non succede e non siamo morti io lavoro tantissimo con i genitori che hanno perso i loro figli tramite incidente o tramite droga o tramite malattie e quando canalizzo questi bambini o questi ragazzi loro dicono sempre noi non siamo morti noi siamo più vivi che mai i morti siete voi ed è così purtroppo i morti siamo noi che viviamo sulla terra perché? perché noi abbiamo le emozioni negative abbiamo l'odio, abbiamo il rancore, abbiamo i dispiaceri abbiamo la depressione che è una delle piaghe più importanti in questo momento sulla terra e loro no e quindi quando loro vanno nell'altra dimensione non diventano illuminati ma non hanno queste forme di negatività e quindi purtroppo i morti siamo noi loro sono più vivi che mai ok? quindi e vivono appunto in questa dimensione è chiamato oltre dove ci sono persone che una volta vivevano sulla terra e quindi anche loro hanno una densità ma non una densità come questa che abbiamo noi sulla terra perché la terra appunto ha questa densità molto molto non mi trovi d'accordo? no assolutamente ah no perché ho visto uno sguardo così di ok siamo molto presi siete molto presi? sono contento stavo facendo riferimento a una cosa che hai detto in effetti siamo in un mondo terreno che oltre al fatto che dicevi di tutti i sentimenti negativi che ci pervadono è anche un mondo in cui se non si pensa bene che è fatto sulla sovraffazione l'uno dell'altro perché si mangiano gli animali con gli animali quindi si mangiano gli esseri viventi con altri esseri viventi anche i vegetali sono esseri viventi quindi si mangiano anche quelli quindi è una sorta di diciamo dal punto di vista così anche semplicistico un ambito non proprio positivo e quindi quando noi sai certamente quando noi andiamo nell'oltre facciamo questo passo andiamo oltre il velo dove appunto io in meditazione mi rivolgo a Silvia perché lei ha fatto il mio corso angelico online recentemente e porto appunto faccio una scusate faccio una meditazione dove faccio sentire e sperimentare l'energia dell'oltre e oltre poi l'energia dei maestri ascesi e l'energia degli angeli e degli arcangeli quindi più saliamo di dimensioni più le energie diventano rarefatte e molto più sottili e quindi quando parliamo di angeli gli angeli sono delle energie che lavorano con il mondo celeste io non chiamo e scusami ma questa è una mia assolutamente una mia sono molto inglese in questa cosa per cui non mi piace la parola trapassato trapassato chissà questo dove è andato è trapassato un trapassato remoto che chissà dove sta ok e non mi piace la parola entità è una parola che io non amo per cui chiamo sempre creature celesti le persone che o vivono nell'oltre o stanno dall'altra parte stanno da qualche altra parte in questa stanza non ci siete solo voi che siete una ventina ci sono i vostri angeli custodi che io vedo ci sono un sacco di persone che vostri cari che vivono nell'oltre ci sono le vostre guide ci sono i maestri ascesi alcuni di voi che hanno come protezione quindi ci sono tantissime energie e ci sono le vostre aure alcune aure che ci sono vi posso dire che sono qui per troviamo un termine che non sia offensivo ci sono delle aure che sono di persone che sono qui perché sono state accompagnate da qualcun altro ma non volevano essere qui ci sono altre aure che sono invece molto aperte a ricevere informazioni e messaggi per cui ci sono persone che perché vedo che hanno dei punti interrogativi sulla testa che mi dicono questo chissà che sta dicendo dove ci vuole portare e però comunque poiché io sono arrivato da Lugano a posto per venire qui stasera a parlare con voi vi prego di avere un cuore aperto anche se non credete a tutto ciò che dico ok è importante questo perché come dicevo appunto è importante proprio stabilire una connessione angelica io sono qui questa sera per parlare con voi degli angeli che io vedo e canalizzo per le persone e degli arcangeli quindi continuiamo con l'escursus degli arcangeli che sostengono appunto i chakra quindi abbiamo detto che il primo chakra è sostenuto dall'arcangelo Sandalfon che è l'arcangelo che è sostenuto anche da un gruppo di angeli che si chiamano i angeli dell'amore della terra poiché io vivo dalla mattina alla sera con la testa tra le nuvole Sandalfon spesso arriva e mi cerca di proprio creare delle catene ai piedi perché io cerco di proprio di andarmene sempre quindi Sandalfon è per quelle persone che non sono radicate come lei signora vi posso dire questa cosa se io guardo la sua aura la sua aura ha una mancanza di rosso il rosso ha a che fare con il primo chakra il primo chakra ha a che fare con le radici se io non vedo il rosso nella sua aura vuol dire che il suo chakra del primo chakra è completamente squilibrato scarico scarico sì perché c'è una situazione importante in questo periodo questo lo si vede per cui quando io vi dico vedo l'aura vedo l'aura e l'aura è dei sette colori dell'arcobaleno e quindi tutte come chakra piuttosto e quindi quando io non vedo un colore in un'aura vuol dire che quel chakra si è bloccato si è fermato e ha assorbito tutta l'energia nello specifico rossa della signora passando al secondo chakra il chakra sacrale il colore arancione è l'arcangelo che guarda questo chakra è l'arcangelo Gabriele l'arcangelo Gabriele come sapete è il messaggero è colui che disse alla Madonna di essere incinta di Gesù Bambino da Maria Vergine ed è il messaggero il messaggero perché perché il secondo chakra è la casa della comunicazione e della creatività ed è anche la casa della sessualità energetica io insegno reichi da 35 anni come vi ho detto c'è un posto nel secondo chakra dove noi non utilizzando l'energia sessuale nemmeno quando abbiamo dei rapporti con i nostri partner questa energia viene assolutamente trasferita in energia di guarigione e quindi attraverso la Kundalini il secondo chakra viene in qualche modo equilibrato il secondo chakra dicevo viene retto dall'arcangelo Gabriele il colore arancione ruota in senso orario nelle donne e anti-orario negli uomini se io guardo la sua aura signora si non vedo un colore arancione prego è vero non vedo mai anche non sono mai riuscita una volta a vedere il colore arancione grazie io speravo che parlasse con me ecco le sto parlando però signora da domani in poi lei deve indossare esclusivamente arancione come lei deve indossare un po' di rosso vabbè mi impegno anche indossare semplicemente si 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 perché i colori sono importantissimi nella nostra vita non c'è un chakra che è nero ok i chakra sono tutti colorati ok per cui le dico di indossare l'arancione perché la vedo un momento bloccata ok non andiamo oltre ok però grazie per cui sto dicendo che quando io vedo questo chakra bloccato e per questo le sto insegnando sto insegnando a tutti voi che ci sono gli arcangeli che dominano appunto i chakra lei può invocare la presenza dell'arcangelo Gabriele nella sua vita è solamente una piccola invocazione chiedo all'arcangelo Gabriele di venirmi in soccorso per esempio oppure chiedo all'arcangelo Gabriele di sostenere il mio cammino con questa liberazione di questo chakra perché il secondo chakra una volta che viene i chakra vengono liberati ed equilibrati la vita cambia completamente per cui se lei per esempio in questo momento e ribadisco non voglio andare troppo nel profondo perché vedo delle cose ma se lei per esempio se per esempio lei in questo momento sta attraversando un periodo particolare della sua vita io che lavoro con l'energia dalla mattina alla sera le dico che se lei riesce a sbloccare questa energia vedrà che a un certo punto delle cose cominceranno a funzionare ok? grazie ok quindi è molto importante che lei da domani vada all'OBS e si compra un vestito arancione l'OBS l'OBS per dire non lo so mi è uscito l'OBS per dire che so H&M quello può andare i giorni indosso il grambio l'arancione deve indossare l'arancione dalla mattina alla sera e poi adesso che viene arrivata la primavera si compri anche dei fiori arancioni si circondata dai colore arancione che è importantissimo adesso arriviamo con il chakra del plesso solare che è la piaga di questo secolo il chakra del plesso solare si trova sopra la pancia dove c'è l'ombelico il sacrale sotto l'ombelico il sacrale si trova proprio all'altezza dell'ombelico il colore giallo e l'arcangelo che domina questo chakra è l'arcangelo Uriel che appunto è l'arcangelo giallo ora diciamo che la metà di voi hanno questo chakra bloccato ok? vi spiego perché il chakra del plesso solare è la casa dell'ansia è la casa dell'insonnia è la casa della depressione è la casa di non sentirsi mai proprio agio nella propria pelle però c'è questa grandissima emozione che si trova appunto nel chakra del plesso solare che è la paura la paura vive nel chakra del plesso solare lei è venuta adesso accompagnata da sua moglie dalla sua amica magari non pensava non pensava di trovare questa situazione in questo momento qua ma se io le dico che il suo chakra del plesso solare è assolutamente bloccato è proprio assolutamente fuori fase lei appunto deve cercare di indossare un po' di giallo bene ok? allora il plesso solare è la casa dell'ansia sapete c'è la guerra adesso siamo proprio in guerra con tutti questi bambini che muoiono dalla mattina alla sera tutti quanti noi abbiamo paura che la guerra arrivi anche qui e quindi c'è tutta questa frustrazione che non sappiamo che cosa fare sappiamo la paura che incombe sulle nostre vite tutte le paure che noi abbiamo vengono somatizzate nel plesso solare per cui se abbiamo a un certo punto mal di stomaco non sappiamo come mai abbiamo un dolore che ne so al fegato piuttosto che al pancreas o alla cistifellea tutte queste energie arrivano dal chakra del plesso solare ora ho mal di schiena appunto soprattutto perché i chakra sono anche dietro non sono solo avanti ok quindi l'arcangelo Uriel in questo momento sta facendo un grosso lavoro di equilibrio per tutte queste persone che arrivano a un certo punto miliardi di persone e non solo abbiamo detto che c'è al centro del plesso solare io lavoro con l'oriente da 35 anni perché il reiki è giapponese nell'oriente noi diciamo che nel plesso solare c'è il cervello c'è la mente il primo cervello si trova qui e qui c'è la mente quindi tutti i problemi tutte le ansie tutte le problematiche somatizzano qui nel plesso solare Lara Lara brava è in dubbio però io che ho questo dono tra virgolette che avete anche voi ma magari ancora non l'avete ben sviluppato vivo una vita senza paura io vado dovunque sono andato a Dubai ho parlato di angeli voglio dire senza avere nessun tipo di remora adesso mi hanno invitato in un'Arabia Saudita che non è certamente Dubai e poi mi parlerò lì anche della stessa cosa mi mettono in carcere mi mettono in carcere poi vediamo che succede mi invito a salvare se c'è un avvocato qui in sala e quindi io vivo una vita fearless senza paura signora dobbiamo vivere questa vita così altrimenti tagliamo le gambe ok la cosa più importante è che se voi cominciate a vivere una vita di colori anche i colori rispondono a voi vabbè il blu non è tanto nero comunque ok il giubbotto nero va bene viviamo in Italia dove il nero regna perché è fashionable perché siamo tutti alcune persone sono grasse quindi si vogliono coprire con il nero ma io lavoro negli Emirati pensate a dire ad una donna araba che non si deve mettere la baia perché io dico che devono indossare i colori queste sotto hanno dei colori pazzeschi dei vestiti meravigliosi tutti firmati tutti così poi si mettono questo vestizio per andare fuori perché il marito vuole che si mette questo velo nero e poi dopo ritorna così non abbiamo un chakra nero e vi dico questa cosa che è l'unica cosa che a Dubai non posso dire perché non so il nero attira i vampiri energetici ok i vampiri energetici sono quelle persone signora io lo dico perché vedo queste cose nella sua aura ma lei da domani indosserà l'arancione quindi il vampiro energetico è una persona di una questa è una cosa che non volevo dire pubblicamente una persona di una bassa energia che arriva verso di lei e le succhia tutta l'energia per cui io non mi meraviglierei se lei quando torna a casa è completamente stanca che non ce la fa manco ad aprire gli occhi queste sono le energie basse che attirano che arrivano le persone che hanno il nero perché il nero succhiano tutta questa energia un po' come i pipistrelli succhiano questa energia quindi dobbiamo indossare i colori nella nostra vita da questo momento in poi tutti colorati ok? io cambio salori ogni giorno brava come bevissima sono indico oggi anche il bianco qui dalla solita funzione del nero no è diverso no no il bianco è il settimo chakra attenzione il bianco è il bianco è il bianco è che il nero non sono colori sono delle tonalità no no ma il bianco è il bianco attenzione è la luce di D è bianca ok poi abbiamo l'altro chakra importantissimo che è il chakra del cuore e il chakra del cuore si trova in petto dove abbiamo lo sterno il colore verde l'arcangelo che guida questo chakra del cuore è l'arcangelo Raffaele quindi il guaritore per eccellenza Raffaele viene sempre rappresentato ma state prendendo appunti se vi comprate il libro c'è tutto scritto lì ah è bene si ho capito hai la mania di prendere appunti ok vabbè ma allora uno deve apprendere questa pausa si è anche rosa si stavo dicendo si non parlavi del verde 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 Raffaele si allora il chakra del cuore Raffaele il guaritore con gli angeli della guarigione il chakra del cuore è verde il colore verde è per l'amore verso gli altri il colore rosa è l'amore verso noi stessi nel 2010 voi non pensate che avete questo libro perché non c'è più in commercio ho scritto un libro che si chiama gli angeli della trasparenza ok ed è uscito nel 2010 l'arcangelo Michele mi disse ti devi fermare adesso e in una meditazione in una classe di lecchi tre che stavo terminando arrivarono questo gruppo enorme di angeli bambini ed erano gli angeli della trasparenza che erano arrivati in quel momento preciso nella mia vita guidati dall'arcangelo Michele per guarire il mio bambino interiore quindi io andai a Londra mi sono chiudo nella mia bella casa e lì ho meditato e sono stato a contatto con questi angeli per un anno circa fino a quando loro mi hanno aiutato a guarire il mio bambino interiore il bambino interiore gli angeli della trasparenza sono arrivati da un'età infantile in fascia fino all'età adolescenziale e adulta quindi gli angeli della trasparenza sono angeli bambini che poi diventano adulti quindi c'è un gruppo di angeli per i bambini che a 7-8 anni vengono abusati e loro vanno e aiutano questi bambini oppure altri bambini che hanno tutta una serie di malattie o di cose quindi un gruppo di questi angeli arrivano e aiutano quest'altro gruppo di bambini quindi gli angeli della trasparenza aiutano le ferite che il bambino riceve in età da piccolo ok quindi ho lavorato con questi angeli ho guarito tutta una serie di cose ho guarito le mie ferite e quindi poi alla fine di questo ho scritto appunto gli angeli della trasparenza che è uscito anche in inglese ed è molto importante questo perché oggi ancora di più diciamo che dal 2010 fino al 2020 quando poi è uscito Pantareiki io ho lavorato ho scritto altri libri però ho aiutato tantissime persone a lavorare con il bambino interiore tant'è vero che un giorno io stavo scrivendo un libro devo dire che quest'audience è abbastanza mista ci sono già diversi maschi di solito nelle mie audience sono il 90% tutte donne c'è un 10% di uomini e così e così anche le mie classi io insegno reiki dalla mattina alla sera in tutte le parti del mondo le classi sono formate da 18 donne e 2 uomini e così allora io volevo scrivere un libro per la guarigione del cuore dell'uomo perché l'uomo è risaputo che non riesce ad emozionarsi che non riesce a lasciarsi andare che non riesce a pensare di poter piangere sapete nelle culture del sud Italia da cui io vengo mai e poi mai potevi piangere davanti ai tuoi genitori pensi che mio padre quando è morta mia madre ha detto non voglio vedervi piangere vabbè comunque ok allora stavo scrivendo questo libro in inglese perché sentivo molto forte questa cosa di scriverlo in inglese e a un certo punto l'arcangelo Michele mi disse proprio mi fece vedere davanti questo coso arabi questo libro sul guarisci il cuore degli uomini è uscito solo in arabo è uscito solo in arabo da una casa di antirice araba che ha comprato che è impazzito per questo titolo è impazzito per quello che c'era scritto all'interno non è stato tradotto in italiano ce l'ho nel cassetto come manoscritto in inglese perché l'ho scritto in inglese così per cui il chakra del cuore quindi ritornando è proprio la guarigione delle ferite del cuore le ferite del cuore in età adulta in età da bambino e quindi quando noi lavoriamo su noi stessi dobbiamo lavorare con il colore rosa quando lavoriamo invece con gli altri per esempio attraverso la guarigione con il reiki lavoriamo con il colore verde del chakra del cuore poi abbiamo il chakra della gola e il chakra della gola è blu e il guardiano è l'arcangelo Michele la mia guida guida la gola la gola è la creatività e la comunicazione e quindi quando voi parlate parlate quando io canalizzo quando parlo da un pubblico lui arriva mi parla attraverso se io vedo una persona che ha un problematica di chakra della gola non necessariamente spesso perché quella persona soffre di mal di gola oppure che tossisce sempre ma la maggior parte delle volte le persone che hanno una gola una chakra della gola molto debole è perché hanno avuto una vita passata nella quale sono stati o decapitati o impiccati o fucilati alla gola e quindi riportano questa ferita in questa vita e quindi chiamando l'arcangelo Michele lavorando con il chakra della gola noi riusciamo a guarire questa possibilità ricordatevi che il chakra è un fiore ok adesso io ho piano piano aperto i vostri chakra e con la mia energia la frequenza della mia voce i vostri chakra stanno piano piano guarendo per cui i chakra sono dei fiori che sbocciano quando noi facciamo un lavoro energetico però devono stare sempre chiusi pensate ad andare con i chakra aperti nella metropolitana di Londra sareste soggetti a tutte le vibrazioni che tutte le persone stanno attraversando la metropolitana in quel momento anche da fuori al finestrino dovunque ok quindi al centro del chakra e quindi del fiore c'è una ruota che gira in senso orario o anti-orario a secondo se siamo uomini o se siamo donne e a secondo di dove si trovano i chakra appunto quindi nella gola negli uomini gira in senso orario nelle donne in senso anti-orario quindi è molto molto importante capire anche la rotazione dei chakra stessi e le funzioni dei chakra perché ogni chakra ha questo colore molto vivido molto forte e ogni arcangelo appunto nella metodologia che io insegno e che porto in giro appunto ogni arcangelo ha un colore e quindi non necessariamente voi vedete un angelo con le ali ma potete vedere proprio un colore che ne so per esempio ero a Lugano l'altro giorno ieri e qualcuno mi ha detto che nella sua stanza di tanto in tanto arrivano queste luci blu allora se tu vedi la luce blu ovviamente è l'arcangelo Michele se vedi un lampo verde è l'arcangelo Raffaele se vedi invece dei colori rossi molto spesso si vedono delle lucette rosse quelle appunto sono le persone che vivono nell'oltre che vi vengono a trovare e quindi gli angeli non necessariamente devono apparirvi con le ali ma possono apparirvi come enormi luci meravigliose poi abbiamo mi stai seguendo Ilaria? si ok poi abbiamo il terzo occhio e il chakra della corona che sono abbastanza collegati il terzo occhio è il al centro della fronte il colore è viola e l'arcangelo predisposto per questo chakra è l'arcangelo metatron allora io vorrei parlare con te posso? si con te con lei dietro ok allora io vedo te appena sei entrato ho visto questa luce viola meravigliosa dietro di te l'arcangelo metatron è la tua guida in questo momento mi dice che io non so non ti ho mai visto se è la prima volta ovviamente volevo chiederti se tu hai per caso sei una persona molto intuitiva si? si? ok perché vedo questa luce che ti brilla proprio qui ok proprio questa luce è molto forte dietro di te c'è l'arcangelo metatron che è diciamo il tuo maestro in questo momento perché lui mi dice che durante la notte viene durante la notte viene e mi dice io cerco di infonderle degli insegnamenti però lei qualche volta mi ascolta e qualche volta non mi ascolta ora io vorrei sapere da te se tu per esempio di tanto in tanto di mattina ti svegli e hai delle idee in testa delle cose che magari hai pensato o pensi di aver sognato durante la notte se questo succede ricordati che c'è l'arcangelo metatron che viene proprio a parlarti ok non solo l'arcangelo metatron ha una connessione molto forte con l'antico Egitto lo sai? cioè ok dei simboli e delle cose questo è molto potente perché l'arcangelo metatron è molto connesso all'antico Egitto e quindi questi insegnamenti non so se ti vengono delle figure geometriche se ti vengono delle cose sono molto connessi gli uni con gli altri quindi lui mi sta dicendo proprio primo sorriso perché mi ha detto che spesso ti vorrebbe scuotere per dirti io sono qua sono qua ma tu non mi senti e non mi vedi però vedrai che a un certo punto tra oggi e domani comincerai a vederlo attraverso questa piccola canalizzazione che abbiamo fatto ok quindi l'arcangelo metatron è viola e come ho detto precedentemente l'arcangelo metatron è era Enoch quindi anche lui è vissuto una volta sulla terra e sono gli unici due arcangeli insieme a Sandalfon che una volta erano vissuti sulla terra e poi abbiamo infine l'arcangelo Shamuel l'arcangelo Shamuel è bianco ed è colui che governa il chakra della corona e il chakra della corona è il chakra più vicino a Dio quando noi facciamo orecchio quando noi facciamo le connessioni angeliche parliamo con Shamuel Shamuel ci porta proprio alla luce del divino tant'è vero che il suo gruppo di angeli che lo aiutano si chiamano appunto gli angeli dell'amore divino sono sempre con noi e specialmente in questo periodo di transizione della terra in questo periodo di pesantezza e difficoltà Shamuel è molto molto presente intorno a tutti noi proprio per aiutarci a gestire questi momenti di turbamento che abbiamo dentro non potete più accendere la televisione perché vedete tutti questi bambini morti oppure tutti non solo bambini ma anche giovani la guerra il potere i soldi per cui se ci credete oppure no ma adesso avete ascoltato le mie parole per una ventina di minuti e quindi vi esorto a lavorare con gli angeli perché gli angeli sono intorno a noi sempre la cosa che loro mi dicono mi hanno sempre detto da un po' di tempo a questa parte è il fatto che loro non vogliono che voi parlate con loro mentalmente quindi non è che li dovete pensare così dovete proprio parlare con loro verbalmente come io sto parlando con voi loro vogliono sentire la frequenza della vostra voce non solo ma anche molte persone dicono ah ma io prego il mio angelo non succede niente non è che devi pregare il tuo angelo quando ti ricordi di cominciare oppure quando hai bisogno di qualche cosa in quel momento se voi cominciate ad avere un rapporto giornaliero con gli angeli quando parlate giornalmente con gli angeli vedete come le cose succedono Silvia che qui ha fatto il mio corso di angelico per 4 sere o 3 sere 4 sere online tutte queste persone che vengono a fare i miei corsi angelici arrivano il primo giorno perché nel corso angelico si scrive si canalizza si fa un sacco di cose ok arrivano il primo giorno e questi io non so scrivere io non sento niente così Silvia scrive dei messaggi angelici che sono la fine del mondo racconta un po' la tua esperienza per piacere sei timida? no buonasera per me è stata un'esperienza meravigliosa perché è sempre stato il mio sogno in questa da quale mi è iniziato diciamo il mio piccolo risveglio l'ho sempre sognata questo modo di canalizzare di poter parlare con queste meravigliose energie per poter dare anche una buona parola magari all'amica che magari ti chiede aiuto e conoscendo Gaetano ho detto ma proviamo perché al solito esperienze ho sentito esperienze di altre ragazze proviamo e è stato meraviglioso perché dalla prima sera dal lunedì io non pensavo fosse possibile invece è stato possibile grazie ancora perché è stato meraviglioso perché attraverso le meditazioni ti hai accompagnato piano piano e non lo so io ho canalizzato ho iniziato a scrivere messaggi iniziali per me è stato meraviglioso e poi tutto è stato sempre un gradino di più e ho potuto canalizzare anche per altre persone è stato meraviglioso grazie grazie a te bene allora avete domande allora ovviamente le persone a cui ho letto Laura erano incombenti cioè nel senso che dovevano sentire questo messaggio piuttosto che l'altro vi rendete conto che non posso fare questo per tutti per cui se mi fate una domanda fatemela generale ecco se l'avete se no facciamo subito la meditazione tu hai una domanda? io ho un commento un commento domanda su quell'ultima cosa detta e cioè sono gli angeli sono come delle persone no noi appunto possiamo avere un rapporto e e loro cercano magari vogliono questo rapporto un rapporto come con una persona assolutamente sì grazie di questa domanda perché ci sono delle persone che mi chiedono mamma io posso disturbare un angelo assolutamente sì gli angeli sono sulla terra per essere per aiutare tutte le persone che ci vivono ok mi hanno detto sempre questa cosa non l'ho detta che la nostra vita è un libro di lezioni e loro sono qui che ci aiutano a imparare tutto quello che c'è da imparare sulla terra se per esempio uno ha un incidente stradale e non è venuto il tuo momento i angeli arrivano e ti salvano può essere anche un incidente più catastrofico frontale perché ho avuto delle testimonianze di persone se tu non devi andare in quel momento i angeli arrivano ti portano via e ti fanno cadere a terra senza il leso ok quindi assolutamente sì i angeli sono come delle persone nel senso se io guardo i tuoi angeli custodi sono due meravigliose energie non mi chiedere i nomi perché non lo sappiamo perché ognuno poi c'ha anche perché il nome è la frequenza se voi quando andate dall'altra parte non vi chiamate più Maria, Giuseppe Teresa o Silvia avete solamente una frequenza diversa ok noi chiamiamo l'arcangelo Michele Gabriele e Raffaele proprio perché così ci hanno insegnato e così io ma non posso assolutamente mai chiedere agli angeli di capire il loro nome così che io lo possa dire alle persone per cui sì sono come delle persone se tu vuoi vederli in quel modo se tu hai un terzo occhio aperto ma altrimenti come ho detto prima puoi anche vedere delle luci intorno ad altre persone o piuttosto che energie poiché io lavoro col Reiki e e non mi chiamo non mi sono mai voluto far chiamare guaritore perché non lo sono l'unico guaritore è Dio il Reiki è una canalizzazione che noi facciamo dell'energia universale quindi non usiamo la nostra energia ma canalizziamo questa energia una delle mie guide è Giuseppe Moscati non so se voi lo chiunoscete che era un medico napoletano che adesso è santo e lui lavorava appunto con le mani e quindi aiutava le persone ho detto questo perché alcune persone per esempio alla fine del mio corso di primo livello Reiki io permetto alle mie allieve le mie allieve perché sono tutte donne alle mie allieve di vedere la mia aura quindi mi sistemo dietro un muro bianco e loro vedono diverse energie e Giuseppe Moscati è quasi sempre presente insieme a all'arcangelo Michele insieme a madre Teresa io nel 1995 ho conosciuto a Londra madre Teresa di Calcutta che era venuta nel suo Ashram nel suo convento a Londra e ero sempre stato assolutamente affascinato da questa figura e io sono una persona o perlomeno ero una persona molto timida per cui non avrei mai pensato di andarmi a mettere come prima davanti alla la transenna per essere toccato da questa meravigliosa donna ebbene lei passò mi appoggiò una mano sul terzo occhio sulla Frau qui e da lì è cominciata tutta la mia energia tutto quello che io oggi so tant'è vero che nella prima pagina del mio manuale del primo livello Reiki c'è questa frase che io dico sempre che è meravigliosa e che oggi è veramente molto valida che dice non possiamo fare grandi cose possiamo fare solo piccole cose con grande amore e questa è madre Teresa adesso possiamo anche fare la meditazione yes tu parlando di incidenti stradali io ho fatto due che potevo morire e un'emorragia che ha putato via ma non mi vogliono su ancora assolutamente no sì ci sono delle anime che appunto hanno lasciato la terra che lavorano in stretta collaborazione con gli angeli assolutamente sì soprattutto i giovani che muoiono molto presto assolutamente sì oppure ci sono le energie dei maestri degli spiriti guida gli spiriti guida che sono appunto o santi a cui voi siete devoti come San Francesco alcune persone hanno San Francesco altre persone hanno padre Pio oppure hanno madre Teresa o hanno San Germain quindi ci sono tutte queste energie molto alte che hanno una frequenza terrena perché sono vissute sulla terra ma che appunto aiutano gli angeli nella guarigione del mondo ma aiutano anche cioè le persone che non ci sono più che avevano e hanno un'anima speciale queste persone aiutano sia in questa dimensione che nell'altra aiutano sia noi che siamo rimasti sulla terra che l'altra sì assolutamente sì che quelli che lasciano la terra sì sì certo ma non erano tanto convinti di lasciarla cioè non sempre chi muore muore nel momento giusto noi si dice che muore è arrivato il suo momento è arrivata la data della morte ma non è detto che quell'anima fosse pronta ci sono anime più pronte di altre no? questo io non te lo so dire non so questa cosa in realtà so solo che se le persone vanno via prima del tempo io credo sempre che è tutto scritto e quindi assolutamente se tu devi andare in quel momento è venuta la tua ora e devi andare però hanno necessità di essere aiutate hanno necessità di essere aiutate solo quelle persone che vengono uccise da altre e che non si trova e che si trovano in una situazione di limbo nella quale non sono assolutamente non sanno dove stanno e quindi per esempio se è successa questa cosa del 7 ottobre ok? allora tutti questi ragazzi uccisi allora i ragazzi più o meno da quella età sono andati che vivono già nell'oltre sono andati in soccorso a tutte queste anime che sono andate dall'altra parte nessuno di questi qua si aspettava di morire no? però loro sono andati in soccorso per aiutarli e per far sì che il passaggio fosse quanto più lieve possibile e in questo contesto come si riesce a porre quello che sta accadendo con tutta la storia dei vaccini e tutti questi morti aumenteranno? le posso solamente dire che sicuramente noi tutti non vedremo mai ancora la pace nel mondo e quindi sicuramente le cose peggioreranno per ancora tanto tempo e che a un certo punto poi ci sarà una stasi ma noi sicuramente non ci saremo più e quindi è importante secondo me riuscire a rimanere sereni e calmi e ovviamente non voglio io non sono per niente un catastrofista anzi posso assolutamente però è importante anche avvicinarsi a questo tipo di energie proprio per cercare di capire e comprendere quali sono i nostri limiti e quali sono invece e dove possiamo andare oltre io faccio un lavoro molto importante con tante persone sul perdono ci sono persone che ancora non sono riuscite a perdonare delle persone che hanno fatto del male loro trent'anni fa ed è proprio assolutamente importante invece proprio lasciare andare tutte le remore tutte le energie che noi mettiamo in questa cosa di non voler perdonare o che abbiamo rancore per una persona piuttosto che per quell'altra perché non c'è tempo e non ne abbiamo più bisogno quindi bisogna essere vivere nel qui e ora come dice Ektar Tolle e non aspettarsi nulla io insegno proprio alle mie allieve di non avere mai aspettative nella vita fatevi assolutamente sorprendere dalla vita sempre e quando più la vita vi sorprende vedete che le cose più belle arrivano verso di voi è anche importante riconoscere chi succhia l'energia e persone che ti deprimano vampiri non necessariamente ma ci sono persone si si l'ho detto prima sono proprio i vampiri energetici che ti succhiano l'energia e proprio perché i vampiri non vengono attratti dai colori per cui tu più i colori indossi più questi vanno via prima della meditazione volevo fare un'ultima osservazione perché se ci sono queste schiere angeliche queste figure se le andiamo così celesti che danno quindi positività che hanno positività perché esiste una realtà così brutta come quella della vita per me come dicevamo all'inizio che poi devono venire in soccorso bocce non ci sentiamo perché devono venire in soccorso in una realtà negativa se c'è dal punto di vista celeste visto che tu hai messo i contatti che hai messo i messaggi una realtà invece che è completamente diversa da quella che dovrebbe essere la volontà divina perché c'è il karma e la terra ha il suo karma molto negativo molto negativo c'è un karma molto negativo sulla terra che è stato creato ovviamente dall'uomo dal potere dai soldi dal denaro dalle grandi nazioni che vogliono solo potere e che quindi questo karma stiamo in qualche modo stiamo scontando e siamo schiavi siamo schiavi di questo sì e c'è un signore che fa delle dirette sul mio gruppo che si chiama appunto Volti di Luce questo signore si chiama Dario Del Buono non so se lo conoscete è un ricercatore molto conosciuto romano che è presidente di un'associazione degli UFO e lui dice che Dario tu non parli con gli angeli tu parli con gli extraterrestri dico no vabbè Dario assolutamente no però mi dice perché gli extraterrestri stanno qua per salvare la terra tu non lo sai dico sì vabbè però tu li chiami extraterrestri io li chiamo angeli però dicevo che adesso sono extraterrestri anche gli angeli sì sì ma come vedete gli extraterrestri adesso anche l'America ha ammesso che loro hanno avuto dei contatti con questi e quindi voglio dire adesso stanno arrivando veramente forse per salvarci chissà però noi viviamo nella costante armonia nella costante energia angelica noi che facciamo questo ovviamente e che cerchiamo appunto di invitare le persone anche a fare questo perché è proprio importante secondo me in questo momento di vivere nelle comunità energetiche insieme per fare delle cose per io dico sempre che avevo detto all'inizio no che c'erano magari degli scettici in sala che anche se pianto un piccolo seme nel cuore di queste persone quando la persona è pronta e questo seme comincia a germogliare allora io avrò salvato quella persona dalla energia che avevo bisogno di ascoltare questa sera o altre sere le persone che incontro scusa una domanda sì hai detto che ci dobbiamo rivolgere gli angeli in maniera personale come si possono collocare una persona però non tutti hanno un nome solo gli arcangeli quindi come possiamo rapportarci con loro se non sappiamo il nome come dicevo prima ho detto che il nome è una cosa terrena loro non hanno nomi e gli diamo nome ok non hanno nomi e quindi quando tu invochi la presenza dei tuoi angeli custodi hai bisogno di avere un colloquio con loro puoi dire angeli custodi venite in mio soccorso per questa esperienza sì assolutamente sì poi se tu sei in meditazione e ti arriva un nome specifico allora puoi pensare che quello è il nome del tuo angelo scusa nel corso della vita si possono cambiare anche gli angeli custodi no gli angeli custodi sono angeli che nascono con te e vanno nell'oltre con te e si reincarnano con te da una vita all'altra sono sempre gli stessi angeli infatti sono le energie che ti conoscono di più in assoluto che conoscono molto di più la tua anima perché sono gli stessi da una vita all'altra sempre gli stessi bravo quindi allora hai fatto questa tua domanda te ho fatto la domanda l'internazione riguarda sia noi che gli angeli gli angeli non si rincarnano gli angeli rimangono gli stessi il passaggio di noi dell'altra dimensione viene mai scusa non ho sentito il passaggio nostro dell'altra dimensione viene mai in che senso nel senso che noi non devi pensare a te come persona devi pensare a te come anima sì io come anima la tua come anima ti reincarni da una vita all'altra fino a quando non hai raggiunto il famoso nirvana che è alla fine di tutte le reincarnazioni e quindi tu ti reincarni ti reincarni ti reincarni fino a quando hai ricevuto l'illuminazione e quindi non ti devi più reincarnare gli angeli custodi sono con te dalla prima incarnazione fino alla fine ecco quindi sono personali sì ma gli arcangeli sono pochi rispetto a quanti siamo noi e quindi come non è che io sono l'arcangelo Michele e tu non ce l'hai ecco no assolutamente occhiamente non è che io sono uno scelto e ho solamente io l'arcangelo Michele no hanno assolutamente l'ubiquità ovviamente ma ci sono tanti canalizzatori dell'arcangelo Michele a questo proposito posso leggere una delle prefazioni c'è una mia amica carissima Celia Fen che è una una dei canali più importanti dell'arcangelo Michele una signora sudafricana che ha scritto questo e volevo leggerlo perché è molto importante lo leggo quasi sempre lavoro con l'arcangelo Michele da più di vent'anni in tutto questo tempo l'ho conosciuto come un essere magnifico a servizio divino è sempre pronto a servire la luce e ad aiutare a guarire tutti coloro che lo invocano sia Gaetano che io abbiamo sentito il flusso di benedizioni e di amore che si ricevono lavorando con lui ho lavorato a stretto contatto con l'arcangelo Michele come canale del processo di ascensione per la terra di cui egli è il guardiano e il leader l'ascensione è semplicemente il processo in cui apriamo i nostri cuori ed eleviamo la nostra coscienza e frequenza personale ciò ci consente di trasformare e attivare il nostro profondo modello umano angelico interiore per esprimere la nostra natura angelica e spirituale sulla terra l'arcangelo Michele ci insegna che negli anni a venire questo processo di trasformazione accelererà man mano che questo che sempre più persone si risveglieranno a chi sono e inizieranno a incarnare la loro anima e il loro spirito sebbene i cambiamenti della terra possono sembrare caotici ci sono anche cambiamenti meravigliosi e positivi che si verificano quando la nuova terra emerge l'arcangelo Michele ci esorta a concentrarci sulla spirale ascendente della speranza del cambiamento positivo e a non lasciarci trascinare verso il basso in una spirale discendente di disperazione e ansia questo libro vi aiuterà nella pratica spirituale e personale quotidiana mentre costruite la vostra connessione con la luce divina e l'arcangelo Michele e poi c'è una canalizzazione che dice camminate in pace miei amati c'è una nuova alba e un nuovo mondo che sta sorgendo sono qui per darvi il benvenuto in questo nuovo posto dove vedrete i vostri sogni e i desideri manifestarsi proverete conforto e gioia il tempo è adesso e siete stati chiamati arcangelo Michele scusa posso fare un'altra domanda io a casa da molti anni ho il libro di Asiel ecco in base alla data di nascita lui prevede nella sole dei cinque giorni è un angelo custode particolare tu ecco che cosa riguarda questo credo che io ho un angelo custode uguale a una persona che è nata nel mio stesso giorno ma è una cosa mia io non ci credo ok assolutamente potrebbe essere una cosa giusta ma io non credo a questa cosa ecco ognuno ha il suo ognuno il suo i suoi appunto sì volevo la dire ecco dimmi io invece ti volevo dire un'altra cosa appunto nella vita terrena prima il discorso del karma cioè è un filo forse è un filo conduttore di Twitter e in effetti si fanno degli incontri che da un punto di vista terreno creano molta sofferenza uno dice dai la vita io penso sia un'evoluzione continua ma possibilmente nello stare bene nel volerci bene nell'amarci quindi qualcosa verso noi stessi e invece accade a volte che questi incontri creano e generino molta sofferenza e che poi è anche difficile staccarsi il bello è quel pur avendo coscienza mi chiedo questo karma questi incontri karmici cioè davvero come posso dire perché è un incontro karmico devi incontrare quella persona per fare un percorso insieme e andare anche nella sofferenza poi sta a te uscirne quando sei pronta i karmici dicevano che era catartica la sofferenza assolutamente sì quindi tu che sei una donna così voglio dire energeticamente alta dovresti sapere queste cose che mi vieni a chiedere no lo so ti vengo a chiedere questo perché per avere una conferma no perché mi sto ribellando alla sofferenza acuta penso io forse ci sono dei momenti in cui la nostra anima dice basta e quindi bisogna tagliare chiedi all'arcangelo Michele di venire e tagliare tutti i cordoni umbilicali che hai con questa persona con la spada con la spada adesso facciamo proprio questa meditazione quindi non è amore ma è una spada diciamo no chi ha detto questo che significa non è amore ma è una spada no ora mi veniva a mettere no scusa no è la spada dell'amore è la spada dell'amore ecco bene mettiamo anche questo pensavo fosse amore invece era un calesse allora facciamo una meditazione hai una domanda ancora? no intanto chiudiamo questa direi questa questa registrazione possiamo anche registrare la meditazione possiamo fare anche registrazione? esattamente ok qualche volta devi anche cambiare paese per trovare la sofferenza che ti fa crescere assolutamente assolutamente in Italia trovate con debito volevo solamente sapere se era possibile spegnere un po' le luci abbassare se è possibile allora mentre Mauro spegne le luci volevo che non accavallaste le gambe per piacere chiudete gli occhi e appoggiate le vostre mani sulle vostre gambe in questo modo perfetto inspirate ed espirate e invochiamo la presenza dei nostri angeli custodi affinché questi si posizionino uno a destra e uno a sinistra occhi chiusi uno a destra e uno a sinistra del nostro corpo fisico chiediamo loro di incominciare a venire vicino a voi alcuni di voi sentiranno un fluscio una carezza e sentirete anche l'energia di questo luogo cambiare inspirate ed espirate ed invochiamo insieme all'arcangelo raffaele gli angeli della guarigione di cui questa sera abbiamo parlato gli angeli della guarigione sono intorno a noi basta invocarli in questo modo insieme all'arcangelo Raffaele che vorrei che voi visualizzaste davanti a voi in una meravigliosa luce verde invocate anche la presenza dell'arcangelo Michele che è posizionato dietro di voi cercate assolutamente di lasciarvi andare di rilassare il vostro corpo che diventa sempre più pesante sentite il vostro braccio destro diventare pesante 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 e anche quello sinistro diventa pesante 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 e le vostre gambe diventano pesanti e sentite forte l'energia angelica intorno a voi e sentite la presenza dell'arcangelo Raffaele davanti a voi e sentite come lui appoggia adesso le sue mani sul vostro cuore sentirete come il vostro cuore diventa caldo sentirete una vibrazione molto forte insieme all'arcangelo Raffaele c'è un gruppo di angeli meravigliosi che sono gli angeli della guarigione e l'arcangelo Raffaele ha illuminato il vostro cuore ed è come se avesse illuminato nel vostro cuore una scala dalla quale adesso noi scendiamo e conterò fino a 10 e arriverete al centro del vostro cuore 1 cominciate a scendere 2 3 4 5 6 vedete ancora il vostro cuore illuminato mentre scendete nelle pareti del vostro cuore 7 8 9 9 10 siete atterrati nel centro del vostro cuore vedete come se ci fossero della ragnatela intorno vedete come c'è ci sono i meandri delle caverne nel vostro cuore e in un angolino buio e dimenticato dorme la vostra bambina interiore il vostro bambino interiore che chiameremo angioletto interiore vi avvicinate piano piano insieme all'arcangelo Raffaele e agli angeli della guarigione sussurrate il suo nome è lo stesso vostro porta il vostro stesso nome cercate di chiamarlo e vedete la sua reazione perché questa meditazione è molto profonda molto spesso i bambini che vivono all'interno del vostro cuore tendono a non svegliarsi subito perché sono stati lì abbandonati dimenticati non più amati e quindi chiamate 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 fin quando questo angioletto comincia a risvegliarsi a riaprire gli occhi molti di questi bambini sono rannicchiati in posizione fetale ma voi adesso siete qui per risvegliarli e quando apre gli occhi voi vi ci avvicinate vi inginocchiate davanti a lui o a lei e gli chiedete di perdonarvi dell'abbandono totale di non averlo più amato di esservene dimenticati ma adesso siete qui per recuperare tutto l'amore che volete donare a lui attraverso gli angeli della guarigione e attraverso l'amore dell'arcangelo raffaele grazie a tutti e piano piano gli date la mano felici e gli promettete che da questo momento in poi cominciate a parlare con lui o con lei durante la vostra vita giorno dopo giorno affinché questo bambino ferito questa bambina ferita possa ritrovare la serenità e l'amore attraverso gli angeli e piano piano risaliamo dal vostro cuore contando fino a 10 1 2 3 4 5 6 7 piano piano risaliamo con questa meravigliosa creatura attaccata a noi 7 8 9 10 siamo ritornati di nuovo in superficie a lavorare con il nostro meraviglioso arcangelo raffaele e adesso sentirete una pace interiore nel vostro cuore e dietro di voi vi ricordate c'è l'arcangelo michele con la sua spada di luce e chiediamo adesso all'arcangelo michele di tagliare tutti i cordoni umbilicali che fuoriescono dal nostro corpo e che sono dei ganci energetici che ci legano a cose persone situazioni quindi cominciamo con la testa problematiche mentali problematiche che ci legano a persone con la mente con il cuore con le emozioni vi arriveranno davanti a voi dei nomi o delle persone, dei visi sono persone che ancora hanno una impronta nella vostra aura e che devono assolutamente essere adesso eliminati quindi chiediamo all'arcangelo michele di tagliare tutti questi ganci fate dei bei respiri perché ogni volta che eliminiamo un gancio sentirete come una liberazione dalla vostra testa, dalle vostre spalle, dal vostro cuore inspirate profondamente e sentite come tutti questi cordoni umbilicali legati a persone che adesso avete nella vostra vita vengono eliminati, tagliati, sganciati e se c'è qualche cordone che non vuole essere reciso fatelo con la forza, chiedete a michele di tagliarlo fortemente e se vedete delle persone che non vogliono lasciare la vostra, il vostro, la vostra aura dite mentalmente io ti perdono e lasciatelo andare tre volte io ti perdono io ti perdono perché dobbiamo avere la nostra aura completamente pulita e scevra da qualsiasi impronta che altre persone hanno lasciato su di noi e quindi i vecchi compagni di scuola insegnanti ex amici, compagni, tutto 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 deve essere ripulito dalla luce dell'arcangelo Michele, che è questa meravigliosa luce blu e adesso tagliamo ancora lungo il nostro addome ferite, energetiche ricevute colpi alla schiena tradimenti da amici chiediamo di tagliare tutto ciò anche dai nostri organi genitali con tutte le persone che abbiamo interagito a livello sessuale e che hanno comunque lasciato un'impronta dentro di noi e intorno a noi tagliamo tagliamo, tagliamo, tagliamo e chiediamo l'arcangelo Michele di continuare a tagliare questi cordoni e ricordatevi ogni sera quando andate a casa, quando siete a letto prima di addormentarvi chiedete all'arcangelo Michele di tagliare i cordoni umbilicali con tutte le persone con cui avete interagito nel corso della giornata e adesso sentitevi più leggere più leggeri adesso che abbiamo terminato il taglio dei cordoni e dei ganci sentite come se il vostro corpo adesso potesse respirare diversamente essere più leggero e leggiadro e avere assolutamente anche con voi nel vostro cuore il vostro angioletto interiore che adesso è gioioso di vivere questa esperienza con voi sentite come la vostra energia adesso è più leggera è l'arcangelo Michele che è dietro di voi adesso soffia nella vostra corona una energia di guarigione blu liquida che spazza via tutti i cordoni che una volta erano addirittura incastrati nei vostri organi tutto ciò viene ripulito adesso e per sempre e chiediamo agli angeli custodi e agli angeli della guarigione di effettuare una guarigione nel vostro corpo fisico completa grazie a tutti 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 ed ispirate profondamente e ringraziamo il regno degli angeli per essere stato con noi ispiriamo ed espiriamo piano piano torniamo qui ispiriamo ed espiriamo muoviamo un po' i piedi e poi le mani ispiriamo ed espiriamo e piano piano e piano piano riapriamo gli occhi come è andata? io sentivo il calore è una cosa incredibile certo beh la meditazione poi è una cosa che si prospetta di pratica quindi con questo qui e questo insegnamento poi lo ripeteremo anche su YouTube quindi potete seguirlo anche per riflesso dove trovare assolutamente sì sentire le solite sensazioni certo c'è qualcuno che vuole dire una testimonianza fare una testimonianza siete ancora un momento più di là che di qua c'è però quella persona che dicevi che ha la luce viola che ha avuto gli occhi tui aperti tutto il tempo si chiama Angelica ah si chiama Angelica di nome e di fatto bene perfetto Angelica non ti sei rilassata? no no perché ti ho visto che avevi sempre gli occhi aperti a meditare ad occhi aperti? ah ok interessante ok ok allora c'è qualcun altro? no bene personalmente ho avuto un'esperienza con la mia bambina con l'angioletto mi faceva piacere sapere se anche le altre persone quando hanno incontrato l'angioletto se non ne vogliono parlare no mi faceva piacere un confronto perché ci dici appunto il conto del tuo angioletto il tuo angioletto che magari non ti guarda però ecco il mio angioletto mi guarda sempre mi viene incontro e si abbraccia ma dal primo momento? anche quando abbiamo fatto il film ok suppongo che perché tu sei abbastanza giovane e quindi non ci sono tante ferite invece una persona un momento più grande invece potrebbe avere Ilaria tu sei andata in trans? sì sì ti ho vista decisamente io ho sentito molta energia avvolgente e poi sulle mani mi viene sentito sulle mani e anche attorno bene sì sì perciò il lavoro è più duro e più vecchio diventiamo? scusa non ho capito il lavoro è più duro e più vecchio diventiamo? no il lavoro è duro se tu non hai lavorato in età giovane e per cui sì però però si può recuperare anche velocemente stavo pensando che mi chiedevo gli angeli terri e gli angeli custodi questi due sono legati alla vita terrena e perché io mi chiedo se io vengo da un altro primo mondo diciamo questi angeli questi angeli terri questi angeli custodi sono sono invece legati alla vita che faccio qui perché non so non so se riesco a avere allora gli angeli come ho detto prima vengono si reincarnano da una vita all'altra non necessariamente tu hai fatto tutte le vite sulla terra per cui potrebbe essere che hai vissuto un'altra vita in un altro pianeta ma con gli stessi angeli non sono energie terrene assolutamente no gli angeli sono sempre visti sollevati da terra per cui non hanno una frequenza terrena ma sono coloro che ti aiutano in questa vita a superare le elezioni a cui vai incontro le elezioni ovviamente sono qualsiasi momento di sconforto ti possa avere ma anche le elezioni belle non è quando uno si sposa piuttosto che fa un figlio piuttosto che un'altra cosa quindi sono tutte energie che sono intorno a noi io quando dico tangibili dice vabbè tangibili non le vediamo però voglio dire se tu in meditazione cominci a sentire e percepire incominci già anche a sapere che ci sono queste luci intorno a te che ti guidano e quindi sono angeli gli angeli custodi sono coloro che sono i tuoi fratelli di luce ecco chiamiamoli così io non so io pensavo di averne come non le chiamavo magari angeli custodi però di averne due dei guardiani e di averne più di due allora ci sono gli angeli custodi ma ci sono le guide ci sono gli spiriti guida non è che tu hai solamente due angeli custodi e basta ci sono delle guide intorno a te ci sono delle persone che una volta facevano parte della tua famiglia ci sono i maestri scesi ci sono anche altro tipo di angeli per esempio se una persona sta andando incontro ad una ad una lezione dove non riesce a perdonare non riesce a lasciare andare una cosa o ha troppa rabbia verso una persona allora per esempio puoi invocare la presenza degli angeli del perdono piuttosto degli angeli della compassione per aiutarti ad andare avanti per quella strada ecco per cui sicuramente non ci sono non abbiamo solo due angeli per questo all'inizio ho detto ci sono tante persone tante energie intorno a noi proprio perché ci sono energie diverse nel senso che ci sono le guide ci sono gli spiriti guida ci sono tutta una serie di altre energie per questo se tu percepisci anche altre energie è una cosa buona perché non ci sono solo gli angeli custodi ok sì perché pensavo proprio io non sono abituato cioè mi sembrava come invocare delle presenze che non conosco ecco questi due angeli custodi perché conosci le presenze invece le altre presenze gli altri conosci altre presenze che non associavo però non associo a questi angeli custodi diciamo non mi viene ad associarli ok gli angeli custodi ci sono se tu li chiami oppure non loro sono sempre là se tu li riconosci loro ci sono sempre anche se non li riconosci per cui se tu li senti se non li senti loro comunque ci sono ok in altri presenti scusa sono connesse anche i tuoi pensieri quello che vidi attualmente per esempio maestri ascesi eccetera ci sono delle persone che hanno dei maestri ascesi come guide per esempio che arrivano per aiutarti in un momento in particolare ma e poi ci sono gli spiriti guida che invece sono sempre con te come dicevo di madre Teresa o di Giusteppe Moscati per esempio secondo anche del tipo di lavoro che tu svolgi spirituale voglio dire eh sì lo spirito sì c'è uno spirito guida eh certo uno non credo diversi c'è uno spirito una persona in particolare però diciamo io ero abituato che se non hai è quello che sto dicendo non hai solo quello hai anche gli angeli custodi Laura è sempre tutti i colori o c'è una tendenza a più quando c'è una mancanza di un colore vuol dire che quella è Grazie a tutti.